Luca Cervini, l'agente di stampa del press. Quando tu hai salutato il West Ham e il metodo del tuo passaggio alla Fiorentina, hai anche scritto sul tuo profilo Instagram, see you soon, cioè ci vediamo presto. Questo vuol dire che vedi Firenze, visto che sei anche in prestito, come una tappa di passaggio nella tua carriera e il tuo obiettivo è tornare in Inghilterra, poi? Sì, sono un po' in prestito, ma sono un po' per lavorare qua, quindi anche se sono qua per un anno voglio veramente lavorare tanto solo, concentrarmi e così tutto va bene. Grazie mille, grazie mille.